buongiorno oggi ci aspetta una giornata intensa in quanto teoricamente andrò in palestra per la prima volta in vita mia assieme a un grande ospite speciale quindi per entrare nel mood gallette di riso e avocado che poi è mais come marcio niente metà da buttare via ok siamo pronti skate o lo zaino che sta tipo esplodendo praticamente per andare dove devo andare devo attraversare tutta milano sto iniziando a diventare pratico con lo skate oh man mi faccio del male adesso come non detto ho appena fatto un volo esattamente su questo gradino qui che era nascosto dalle foglie mi sono fatto la bua prendiamo il tramvala guarda qua mi sento un saccuno vero da andare in giro con lo skate ci siamo la cosa bellissima di milano che si scoprono sempre nuovi posti la 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 guardate che abbiamo trovato ciao a tutti gli amici del canale di cos'è autobasic si guarda qual mezzo mamma mia che mezzo direzione casa di blink si ciao alvi e anche lo facciamo affogare arriviamo 10 minuti permesso buongiorno beh io pensavo di essere quello disordinato però anche alvise non scherzo così da una scatola che c'era 2080 ti hai una cosettina arrivata tour della casa di blink questo è lo studio bellissimo calicelle partita se volete vedere come sarà la mia casa tra un po questa è un'idea disastrata praticamente l'idea è che lui allenerà noi due esatto ma tu non ti sei allenato io mai andato in palestra in vita mia mia mamma mi dice di non fidarmi degli sconosciuti alviso lo conosco ma lui non l'ho mai visto fino a oggi cioè mi hanno portato io non ci credo che adesso morirò praticamente questa è la palestra che si è costruito alvise nel sottoscala è tutta una copertura adesso mi torturano in realtà mi stanno facendo fare cose poi troverete sul suo canale il video dove io muoio tipo in teoria ragazzi è stato bello mi ha voluto tanto bene ok provate anche solo a mettermi così basta dovrebbe andare aspetta facciamo che attacchiamo le tasse in giù agganciati tutto uuuh ahahah ha decisato di morire eh adesso addominami eh? dai ahahah 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 wow sono vivo comunque è tutta una copertura lui di solito tipo tortura veramente le persone questo qui è il rullo è la svolta oh ce l'abbiamo fatta sono vivo adesso dobbiamo mangiare perché ce lo siamo meritati questa volta mangiamo 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 assaggiamo la team cacchio un sacco commetto che è porno vero? oddio buonissimo oh che benessere oh all I need is love boom boom spettaculare direi molto bene mamma mia sto registrando con la fotocamera di blink e niente devo già cambiare fotocamera bene si torna a case direi ciao alvi ciao ciao oh man ciao 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 non possiamo spoilerare la via per cui ciao amici di Ghiatti Dale bene siamo a casa quindi direi che questa giornata può giungere al termine poi il video dove mi alleno e faccio cose in palestra lo vedrete sul canale di Michael comunque è sempre bello arrivare a casa e trovare il frigo pieno di cose se vuoi qualche spuntino lol beh dai non ho neanche l'acqua da bere tipo Amazon è Amazon però la nonna mi ha lasciato un mestolo che mi mancava grazie nonna adesso posso fare lo chef professional tra l'altro io mi sono promesso di andare a dormire presto e svegliarmi ancora più presto per cercare di mantenere una routine decente e organizzare meglio le giornate quindi mi hanno detto tra l'altro che l'acqua di Milano è pulitissima prendete con le pinze questa informazione però tipo prendono l'acqua a 200 metri di profondità e poi è tipo super mega filtrata ed effettivamente è buona questo è il momento più bello della giornata ragazzi buonanotte buonanotte